Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te nel campo delle tecnologie e dell'apprendimento e della conoscenza. Vorrei parlarvi in questo video tutorial di eFeedly, aggregatori di feed, detto così suona un tantino alieno. Feedly è in realtà un'applicazione che ci permette di ricevere flussi di informazione dai siti che ci interessano. Ma a che cosa serve tutto questo? Bene, per capirlo dobbiamo parlare appunto dei feed RSS. Cosa sono prima di tutto i feed? I feed sono flussi di informazione, noi viviamo nell'epoca del sovraccarico informativo, dell'information overload. Ebbene, questi flussi di informazione, definiti i feed, sono formatati secondo parametri specifici, uno dei quali appunto, forse il più diffuso, è l'RSS, Rich Site Summary o Really Simple Syndication, che è appunto un formato per organizzare e distribuire le informazioni. Ma di cosa stiamo parlando più esattamente? Bene, l'idea centrale dei feed RSS è che non dobbiamo più essere noi ad andare a cercare nell'oceano sterminato del web le informazioni che ci interessano. Attività dispersiva, che prende tantissimo tempo, perché se per motivi di aggiornamento, per hobby, per lavoro, per i nostri studenti, per noi stessi, seguiamo siti, canali YouTube, blog, riviste online, eccetera, siamo costretti periodicamente ad andare a visitare decine e decine di pagine per vedere se c'è qualcosa di nuovo o di interessante, perdendo tantissimo tempo. Invece l'idea è che siano le informazioni che a noi interessano ad arrivare automaticamente a noi, in modo da poter essere da noi consultate e lette, tutte le novità, in un unico luogo. Questo comporta un vantaggio enorme dal punto di vista dei tempi e dell'efficacia. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, ho linkato qui un video, il link a un video di Luca Mea, che spiega in pochi minuti come funzionano i feed RSS. Quindi abbiamo detto una tecnologia, di questo si tratta, per distribuire i contenuti che vengono pubblicati sul web. A proposito di Information Overload, si pensi che nel 2015 sono stati pubblicati, e soprattutto contenuti generati dagli utenti, pari a 8 zettabyte. Per avere un'idea analogica, per così dire, di cosa significhi 8 zettabyte, basti pensare che si tratta di una quantità di informazione pari a 17 milioni di volte l'informazione contenuta nella biblioteca del congresso di Washington, la più grande biblioteca al mondo. Sfruttando i feed RSS, noi possiamo invece mantenerci aggiornati su tutte le novità che ci interessano, che vengono costantemente pubblicate nel web, senza sforzo alcuno. Naturalmente, per far questo, occorre disporre di un software che sia capace di leggere questi flussi secondo i formati, per esempio RSS. Si tratta dei cosiddetti feed reader lettori di flussi, o aggregatori di flussi, che permettono, che monitorano automaticamente, da soli, senza che noi interveniamo, tutti i siti che abbiamo noi indicato, e che abbiamo selezionato, e che ci mostrano in un unico luogo, dicevo, le novità. Uno dei più diffusi aggregatori è, senz'altro, Feedly, che è un vero e proprio ambiente web, altamente personalizzabile, e questo è un grande vantaggio. è uno strumento molto importante per, io dico, addomesticare il web, cioè rendere il web un luogo a misura a duomo, per evitare di disperdersi nel caso delle informazioni. Feedly, dicevamo, è un aggregatore di fonti, fondamentale per tenersi aggiornati, e permette, dicevo, anche di creare raccolte tematiche di fonti, per esempio possiamo organizzare una raccolta di tutti i siti che noi consultiamo su argomenti di tipo pedagogico e didattico, o tematiche disciplinari o interdisciplinari, e così via. Feedly è un'applicazione freemium, che è anche un'applicazione web freemium, esistono anche le app iOS Android per mobile, quindi possiamo anche installare il nostro smartphone, i piani di abbonamento sono questi, e quindi la versione a pagamento, che fornisce ovviamente maggiori funzionalità, costa, come potete vedere, 65 dollari, e anzi, adesso c'è un'offerta, è 84 dollari all'anno, quindi sono 65 dollari all'anno. Ma vediamo come funziona Feedly, con un motore di ricerca troviamo la home page del servizio, che è questa, e clicchiamo sul pulsante verde per registrarci. Possiamo registrarci con il nostro account Google+, o Facebook, oppure alla solita maniera, con il nostro nome, mail e password. Io ora, avendo già registrato un account, cliccherò su login e mi loggerò con Google+. Questo è il nostro ambiente di lavoro, la nostra dashboard. Abbiamo un menu sulla sinistra, e poi abbiamo anche un menu che ci permette di configurare le varie opzioni. Vediamo però quali sono le principali operazioni che noi possiamo compiere con Feedly. Prima di tutto, come vedete, io qui ho una lista di post, pagine, eccetera. Cliccando su Today, appunto, viene visualizzata questa lista. Si tratta di tutti gli articoli pubblicati nei siti che io ho indicato come siti da seguire. Cosa succede? Che cliccando su uno di questi siti, vedete, mi compare l'articolo. È l'articolo che è arrivato da me in Feedly, e non sono io che sono andato a consultare. Ho circa 19-20 siti selezionati, questi 20 siti. Quindi la prima funzionalità è la lettura. Clicchiamo su questo secondo post. Come vedete, in questo caso io non ho l'articolo completo, evidentemente il sito rende disponibile soltanto il titolo e una breve descrizione. In questo caso io dovrò andare a visitare il sito per poter leggere l'articolo per intero. Vediamo ora una delle funzioni, chiudiamo la scheda, vediamo ora una delle funzioni più interessanti di Feedly. Filosofia, riviste di storia, tecnologie dell'apprendimento sono raccolte che io ho creato. Ciascuna di queste raccolte comprende, in questo caso filosofia solo due, dei siti che io seguo. Per esempio, tecnologie dell'apprendimento, vediamo, sono sei siti che seguo per tenermi aggiornato su tutto quanto viene pubblicato in questi siti. Come si fa adesso a aggiungere un nuovo sito, quindi un nuovo flusso di informazioni proveniente da un sito, in una di queste mie raccolte? Per esempio, tecnologie dell'apprendimento, ecco queste sono tutte le notizie che mi arrivano dai siti che io ho segnalato. Ne voglio aggiungere un altro. Posso fare in vari modi, per esempio, posso andare su Search e cliccare su una di queste parole chiave e se nessuna di queste mi soddisfa, cliccherò su More Suggestion e scriverò, digiterò le mie parole chiave. In questo caso, ecco qua, tecnologie educative e mi compaiono, come vedete, una lista di siti. Per inserirne uno, per esempio, andiamo in italiano, in siti italiani, Corriere di Scienze e Tecnologie, basta che clicchi su Follow. Cliccando su Follow si aprirà una scheda, ingrandisco, così potete vedere meglio, e io posso o aggiungerlo in una delle raccolte già presenti, o creare New Feed, una nuova raccolta di feed. Clicchiamo, per esempio, e inventiamoci una raccolta, per esempio, Prova, e creo la mia raccolta. Come vedete, è comparsa adesso, nel mio menu, sulla sinistra, una nuova raccolta Prova, che contiene un sito, quello del Corriere IT, Scienze e Tecnologie. Posso anche procedere in un altro modo, io in genere so già quali sono gli indirizzi dei siti che mi interessano, quindi mi limiterò a incollare l'indirizzo del sito, questa è la guida a tutto di K3 Shock, e cliccherò su Follow e, per esempio, la mettiamo qui, su Prova. Come vedete, adesso abbiamo due feed. Vediamo adesso come posso gestire le mie raccolte e i singoli feed inclusi nelle varie raccolte. Cliccando sulla rotellina, arrivo al servizio Organizza le tue fonti. Posso arrivarci, vedete, anche da qui. Qui avrò tutti i siti, tutti i feed relativi ai siti che io sto seguendo. Cosa posso fare? Se ho un centinaio di feed, posso, per esempio, cercare tramite una parola chiave quello che mi interessa, oppure cercare utilizzando queste caselle di ricerca, che se seleziono filosofia e poi una parola chiave. In questo caso ne ho bisogno, ne ho solo due. Cosa posso fare ancora? Posso, per esempio, decidere di non seguire più uno di questi feed, magari, che so, giornali di storia. Clicco e cancello. Adesso non lo rimuoverò, ma potrei, appunto, rimuoverlo, e quindi non mi avranno più flussi di informazioni da quel sito. Per gestire le singole raccolte ho a disposizione qualche altra opzione, cliccando, vedete, per esempio, sul titolo della raccolta. Che cosa posso fare? Posso aggiornare la raccolta. Potrei creare, e questo è molto interessante, ma bisogna avere la versione a pagamento, un team di lavoro. Basterebbe cliccare qui, e vedete, potrei creare un team inviando la mail, abilitando tutti coloro, per esempio, i miei studenti, che mi interessa coinvolgere, nel gestire questa raccolta. Quindi potrebbero editarla, aggiungere risorse, condividerla, eccetera. Oppure potrei, semplicemente, condividerla con un gruppo, per esempio, ancora una volta, di colleghi, magari, o di studenti. Questo, semplicemente, cambia il layout della visualizzazione. Vediamo, Card View. Ecco. E qui, i tre puntini, ho a disposizione altre opzioni. Posso ordinare i feed a seconda, per esempio, dei più recenti, i meno recenti, i più popolari, eccetera, eccetera. Oppure popolari e ultimi, e recenti. Oppure posso rinominare, cambiare qui il nome. Qui, invece, posso editare le fonti che questa raccolta monitora. Cliccando su Edit, vedete, posso, per esempio, rimuoverla da filosofia. Per inserirla, magari, aggiungerla in un'altra raccolta, questa singola risorsa. Chiudiamo. Ancora, cosa posso fare? Posso, more setting, vedete, qui siamo praticamente la stessa cosa. E' gestione. E' sempre la stessa scheda che mi permette di rinominare, di cancellare e di attribuire una fonte a un'altra raccolta. Vediamo adesso quali operazioni io posso compiere sulla singolo feed, non sulla raccolta. Vedete che già, portando il mouse sopra questa icona, mi compaiono alcuni strumenti. Ma clicchiamo direttamente e vediamo cosa succede. Bene, abbiamo qui a disposizione tutta una serie di pulsanti. Questo pulsante mi permette di inserire questo articolo in una sorta di lista di lettura. Non ho il tempo, magari, di leggerlo subito, ma mi interessa, e lo inserisco in una lista di lettura. La lista di lettura, come vedete, è questa, è uno di diversi, un po' di arretrato da leggere. Torniamo nella scheda di questo post, perché in realtà è poi il post di un blog, e vediamo che ho una stella che permette di salvare questo articolo in una board, cioè in una sorta di lavagna, bacheca. Vedete, posso creare varie board, ne ho già una recensione, dove inserisco quegli articoli che mi interessa segnalare e recensire, appunto, nella rivista sulle tecnologie e dell'apprendimento e della conoscenza che curo su Scoop It. Ma posso creare una nuova board? Basta cliccare su Create a board e digitare un titolo. E ho creato la mia nuova board. E ho salvato quest'articolo nella mia nuova board. Qual è lo scopo? Lo scopo è che, adesso io ho scherzato, è uno strumento, come dire, di meta-organizzazione. Posso, magari sto lavorando su un certo argomento con i miei studenti o con i miei colleghi, un argomento che non mi interessa seguire costantemente, ma solo per un certo periodo, e quindi qui, in questa board, raccoglierò, l'argomento in questo caso sarebbe Pippo, raccoglierò tutti i post, gli articoli, i video, eccetera, su Pippo che trovo e che mi possono essere utili ai fini del progetto che sto portando avanti. Quindi Pippo potrà essere e sarà senz'altro incluso in una mia raccolta e in più incluso in una mia board specifica che è uno strumento di lavoro. Vedete che poi ci sono altri pulsanti, non tutti sono attivi, per esempio posso copiare il link negli appunti e poi condividerlo con i miei studenti o colleghi su WhatsApp, su Edmodo, su Fidenia, eccetera. Altre operazioni non le posso compiere, perché vedete, non posso salvare su Evernote perché ci vuole la versione a pagamento. Ancora posso condividere via mail questa singola segnalazione inserendo qui l'indirizzo di una persona o di un gruppo di persone. Non posso condividere su LinkedIn, posso su Twitter o per esempio su Facebook, su Google Plus, su OneNote, eccetera. Quindi come vedete alcune funzionalità sono a pagamento. Come ultima operazione vedremo come cancellare un feed e come cancellare una raccolta. Rechiamoci per esempio su Corriere IT. Voglio rimuoverlo dalla mia raccolta, mi sono portato, vedete, su Corriere IT, vado sul menu e clicco su Unfollow, quindi non seguire più, rimuovi. In questo caso Corriere IT è stato rimosso, non c'è più. Per cancellare invece la raccolta devo prima svuotarla e eliminare tutti i feed che sono compresi. Quindi clicchiamo qui. Adesso, come vedete, la mia raccolta, che è vuota, è sparita. La mia raccolta Pippo, chiedo scusa, Prova, è completamente sparita. Posso anche cancellare ovviamente Pippo. Ecco su Pippo e cancello. Vediamo adesso il menu in alto a destra. Questi sono i settings. Posso per esempio cambiare, ma questo lo potete frugare da soli, completare il mio profilo, cambiare la password. Posso per esempio cambiare, non so, i colori. Mettiamo un colore quasi questo. Vedete, è cambiato i colori del menu, dell'ambiente di lavoro. Posso anche scaricare per iOS e per Android, l'app per iOS e per Android, in modo da poter usare il programma nel mio telefonino, oppure posso aggiungere a Chrome un bookmarklet, c'è un pulsante che mi consente molto semplicemente quando sono su un sito, su un blog, su un canale YouTube, su un sito web che mi interessa, di, cliccando il bookmarklet, aggiungerla alla raccolta che preferisco. Bene, questo è tutto. Vi ringrazio per la pazienza. È uno strumento fondamentale, secondo me, Feedly, da far apprendere anche agli studenti, perché permette di addomesticare davvero il web, di renderlo un luogo vivibile e abitabile, di fare uno strumento di conoscenza, di apprendimento, o di gioco, o quel che vogliamo, ma di utilizzarlo in modo più consapevole, più critico e più efficace. Vi ringrazio di nuovo e buona giornata.